3 tagliapietre di Sheffield, colpevoli di picchettaggio, scondanati a 4 metri... Solo una decina, signore. Ottimo. Presto i Blighter saranno armati fino ai denti. Non vedo sbibri. Beh, distribuitela dinamite e state attenzione. Bene, signore. Bisognerà si spaventare di lui. Questo lo fermerà. Sei proprio una spina del fiamma. Non lo prendo. Ora lo prendo. Non lo prendo. Oh, no!